Ben trovati a Tu per Tu questa settimana, ci ripropone il faccia a faccia con Massimo Fasanelli del gruppo misto in consiglio provinciale. Buongiorno, benvenuto. Allora, lavoro ce n'è intanto, ora sul tavolo c'è niente meno che la manovra finanziaria, quindi un capitolo che ne apre molti altri, un argomento che permette di dibattere su molte cose, però alcuni punti salienti Fasanelli li ha già individuati all'interno della manovra. Sì, ci sarebbe da parlare per ore, però in 5-6 minuti diciamo che è una finanziaria un po' triste, evidentemente il sistema economico non permette più di tanto, però io credo che anche dal punto di vista mediatico ci sia forse una troppa gonfiatura, enfasi in questa cosa. Se guardiamo banalmente ad esempio alla liberazione dei 120 milioni che la provincia sembra dia ai comuni per fare queste opere, in realtà sono soldi dei comuni, non è la provincia che gli dà. Non è nulla di concesso. Assolutamente no, è come dire a un proprio figlio mettiti da parte 10 euro al mese e poi alla fine dell'anno, a Natale, il papà va e dice ti regalo 120 euro per Natale. Il figlio giustamente ti dice guarda che sono soldi miei. Ok, l'esempio calza. Quindi voglio dire l'agricoltura stessa, si legge in questi giorni 120 milioni per l'agricoltura, insomma innanzitutto il piano di 120 milioni è 2014-2020 e questo bisogna saperlo e poi di quei 120 milioni 90 sono, 88 e 800 per l'esattezza, sono dello Stato e della comunità europea, 30-32 sono della provincia. Altre cose, l'IRAP e l'IMIS ad esempio, sembra che sia stata abbassata l'IRAP e l'IMIS. In realtà nel 2016 circa 33 milioni che vanno evidentemente a decurtare le tasse che devono pagare le aziende, però sono al 100% previste dallo Stato, la provincia non mette nulla. E addirittura nel 2017-2018 per far fronte alle abbassamenti che prevede lo Stato, quindi alle tasse inferiori che prevede lo Stato, addirittura le rincara la provincia, quindi la provincia mette più tasse. Sono un po' anche stupito dal fatto che le associazioni di categoria in qualche modo siano abbastanza soft in questo senso, ma si parla di qualcosa come 65 milioni di euro che la provincia rincarerà nel 2017 e 35 nel 2018. Quindi attenzione a dire siamo bravi e siamo bravi, perché di fatto se noi leggiamo quello che c'è scritto nel finanziario non è proprio tutto rose e viole, anzi, temi sul sociale, le RSA, il problema che Zeni ha buttato lì, questo problema della RSA, gestione unica, è una sordità pazzesca, allora va bene fare economie per carità, dobbiamo tutti cercare di ridurre gli sprechi, ma lì non è uno spreco, bisogna partire dalle cose concrete. Io da sindaco di Pomarolo abbiamo, assieme a Nomi a Volano, la casa di riposo, abbiamo quindi il consiglio di amministrazione che viene nominato da noi, eccetera, eccetera, vi posso garantire che i consigli di amministrazione, i consiglieri, il presidente sono amministrativi aggiunti e se si allontana dal territorio anche questi aspetti, le case di riposo spesso vivono anche di lasciti, di volontariato, se perdiamo tutto questo è la fine veramente anche della nostra società, quindi attenzione a fare economia, non sono solo numeri, la società, la nostra società non è solo numeri, probabilmente la crisi che stiamo vivendo è dovuta anche proprio a questo, si guarda solo e esclusivamente al profitto, però su certe cose assolutamente bisogna tener conto anche degli aspetti sociali. Senta, una domanda sola perché il tempo è tirannissimo, è possibile che una provincia come quella di Trento vari una manovra finanziaria in cui debba liberare dei soldi accantonati dai comuni per poter dire ecco qua, questo è quanto io vi metto a disposizione, è possibile che non ci sia dell'altro? È quello che mi chiedo anch'io, allora Rossi ha detto in commissione abbiamo previsto un miliardo e mezzo di interventi strutturali, beh dopo se vai a leggere di fatto è un miliardo e mezzo ma non è un miliardo e mezzo la provincia, la provincia mette un miliardo, 500 milioni sono quelli che sono dei comuni, è quello che dicevo prima, allora diciamo le cose come stanno, bisogna essere trasparenti con i cittadini perché per gonfiare le cose poi alla fine quando si arriva ai nodi arrivano al pettine, non hanno fatto altro che anticipare quello che prevede Renzi, Renzi prevede che nel 2017 ci sia sbloccato, quindi la provincia non hanno fatto nulla di più che anticipare questo, ma ripeto sono soldi, sono soldi dei comuni, anzi con l'aggravamento direi che se questi soldi non vengono spesi entro l'anno, altrimenti vanno nelle comunità rivali, tornando al discorso del bambino, a Natale dico a mio figlio ti do 120 euro che sono già suoi, se però non li spendi entro il fine dell'anno con magari qualche negozio chiuso eccetera, che sono i problemi che possono avere i comuni nell'elaborare l'aspetto tecnico e anche può essere anche dei limiti degli stessi amministratori che non riescono a spendere o a individuare dove mettere questi soldi, addirittura li perdo, quindi ti do 120 euro caro bambino, però se non li spendi entro fine anno sappi che me li prendo, quindi altro che agevolazione è tutt'altro, poi attenzione va bene, pur essendo comunque ripeto soldi dei comuni della provincia, perché comunque si rilancia l'economia e spero e speriamo che tanti comuni utilizzino tutti questi soldi, ma non perché si spendano in quanto tale, ma proprio perché hanno un indotto sull'economia che assolutamente ha bisogno di essere trainata anche dal pubblico. Senta Fasanelli, in chiusura vorrei far sentire la riflessione che abbiamo raccolto per strada con un ragazzo, parlando degli attentati recenti purtroppo di Parigi, abbiamo chiesto che cosa ne pensasse a livello di sicurezza, se anche la politica locale può fare qualcosa, ma soprattutto se e come bisogna reagire, bisogna cambiare il nostro stile di vita di fronte a questi eccessi, a questi estremismi oppure no? Sentiamo che cosa ha detto. Bisogna che ognuno possa vivere come ha sempre vissuto, lo stile di vita deve cambiare dal punto di vista politico e sociale, casomai deve essere dall'alto che deve venire il cambiamento e non da noi, prima di tutto, dopo sicuramente deve venire anche da noi. Quindi cambiare, ma che cosa? Non lo stile di vita, cambiare qualcos'altro intendeva forse dire questo ragazzo, la politica che deve cambiare? Probabilmente sì, lo stile di vita è chiaro che assolutamente non deve cambiare, perché se ci facciamo condizionare da dei pazzi o da fattori esterni, credo sia veramente la fine di tutto, noi dobbiamo continuare a vivere il più sereni possibile, compatibilmente ovviamente con quello che sono le problematiche quotidiane, però è chiaro che la politica deve fare qualcosa, probabilmente adesso ci si rende conto che forse la troppa, troppo buonismo nell'accoglienza forse ha portato a questo, intesa accoglienza non dal punto di vista del profugo ci mancherebbe, ma qualche controllo in più. Probabilmente sì, poi qua ci sono fattori internazionali che hanno inciso su questo, perché la guerra in Iraq addirittura, probabilmente certe dittature che sono state abbattute, forse era... Era il caso di lasciarle al loro posto? Ma allora è chiaro che la dittatura non va mai bene, però se riesci a creare, da una dittatura arrivi ad uno Stato democratico, allora ci può andare bene. Se non sei in grado di sostituire la dittatura con uno Stato democratico, ma diventa anarchia, che è quello che è successo in alcuni Stati, che allora diventa impossibile, perché poi a livello internazionale gli Stati non hanno più referenti sui quali contrattare le dinamiche economiche, eccetera. E quindi questa è la situazione che si è creata e il problema è assolutamente grave da non sottovalutare. Io ero a Bruxelles la settimana scorsa, in effetti c'è un clima... Tirano a brutale. Sì, 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 assolutamente sì. Non creiamo allarmismo, però la politica, forse la troppa accoglienza di alcuni partiti, forse deve essere limitata in questo senso. Probabilmente si stanno rendendo conto anche. Ringraziamo Massimo Fasanelli del gruppo misto in consiglio provinciale per essere stato con noi, grazie, buon lavoro e a voi tutti l'appuntamento la settimana prossima.